Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Anche per quest'anno le feste ce le siamo messe alle spalle ormai da qualche giorno, qualche settimana, e ci siamo rituffati a pieno regime con la corsa nel nuovo anno. E mai come in questo Natale appena trascorso ho ricevuto varie domande inerenti la corsa, il trail running e l'ultra. Ovviamente quesiti post da chi di running e di sport anche in genere sa poco o nulla. Roba che a noi amanti dello sport e in particolare di questa disciplina fa al tempo stesso ridere ma anche accapponare la pelle. E nel tempo, non solo questo Natale, dopo ve lo racconto meglio, le ho raccolte tutte. Davvero non solo quelle del santo Natale ma anche di Santo Stefano, dell'Epifania e delle altre giornate e serate dicembrine dove in qualche modo si incontravano i classici conoscenti e parenti che vedi solo in queste occasioni, io quasi. Pian piano che me le facevano scoprendo le mie abitudini da runner che sta anche più ore consecutive a spasso per sentieri, me le appuntavo prima mentalmente e poi appena possibile andavo proprio a scriverle e a segnarle nel blocco note del telefono così da potervele poi riportare successivamente in questo episodio. In più, per completezza e poi anche perché diciamocelo se no durerebbe davvero poco questa puntata, vado ad aggiungere alcuni evergreen che mi sono stati posti anche più volte nel corso degli anni, sempre ovviamente nel corso di eventi mondani e familiari come quello natalizio, pasquale e simili, non solo appunto relativi al 2022 appena passato ma che mi sono rimasti in mente nel tempo. Che poi se vogliamo questa cosa, questo giochino, si potrebbe anche allargare in generale a tutte le peggiori domande che si possono fare a un runner. In parte potrebbero essere alcune le stesse ma in verità vedrete, ve le racconterò, queste sono molto più specifiche sui giorni di festa o perlomeno alcune di queste. Prima di partire però fermatevi un secondo, chiudete gli occhi e immaginate questa scena. Forse tra l'altro sarà pure capitato pure a voi quindi vi verrà più semplice immedesimarvi. Siete seduti al tavolone al pranzo di Natale con a fianco a voi il vostro partner e qualche parente più stretto. In più alcuni che invece conoscete poco, quelle persone che incontrate solo per Natale, Santo Stefano e altri piccoli eventi e momenti simili nel corso dell'anno. Queste persone, questi ultimi, sanno ben poco di voi. Non hanno neanche troppo interesse nei vostri confronti. Sanno solo che correte grosso modo, nemmeno su che distanze o che terreni, ma vi hanno in qualche modo affibbiato l'etichetta di runner. E tra il secondo primo e il primo secondo, dato che gli argomenti più generici sono già belli e terminati, iniziano a rivolgervi qualche domanda, inizialmente sul lavoro che è un grande classico e poi inevitabilmente sulla corsa. Ecco, mettetevi qui, in questa posizione, in questo momento, voi siete qui in questa situazione. Ed ora, avendo descritto a grandi linee il contesto, possiamo iniziare effettivamente con questa lista, con le domande, ma anche con le risposte che non ho dato ma che mi sarebbe piaciuto dare. La prima è, ma correndo così tanti giorni e per così tanto tempo, arriverai da vecchio ad avere le ginocchia sfatte e le articolazioni distrutte. Guardi, signora, le ginocchie me le sono già sfasciate alla grande anni fa, giocando a basket. Quello che faccio ora al confronto è una passeggiata di salute. Altra domanda, quando vai nei boschi, non hai paura dei cacciatori e dei cinghiali? Questa è una delle poche domande semisensate, se vogliamo. E effettivamente sì, dai, un po' di strizza di essere impallinato o caricato ogni tanto c'è, ma fa parte dei rischi del mestiere, per così dire. Ma dove lo trovi il tempo per correre tutti i giorni? O la DeLorean non lo sapevate? Però per risparmiare l'ho presa di seconda mano. Quanto mangi? Ma dai, tu che corri te lo puoi permettere. Ecco, in verità questa è un po' una stronzata, perché mangiare come degli animali non è il massimo della vita, siamo onesti, però almeno posso farlo. Posso dire così, sì sì è vero, devo reintegrare quanto ho bruciato correndo, così ho una bella scusa per mangiarmi anche il tavolo. Hai corso per 50 chilometri e praticamente è come andare da qui a Livorno oppure sostituite Livorno con altra città, ma come diavolo fai? Metto un piede dopo l'altro per un sacco di tempo consecutivo. Mio figlio è fortissimo a correre, ha corso anche la pistoia a betone. Qua di puro orgoglio vorrei anche tirarmela un pelino di più dicendo che io oppure ho anche fatto di meglio se vogliamo, più dislivello e anche su sentiero, ma alla fine della fiera so di essere io per primo una pippa al sugo e non me la sento di fare il gradasso. E quindi la risposta educata è grandissimo, grande, salutamelo. Chissà che belle domande competenti farai a lui ogni volta che vi vedete e parlate di corsa, visto le altre che mi hai posto in precedenza. Quella che adesso arriva in verità è un'affermazione e non una domanda. Da me hanno fatto la maratona di Natale. Era una corsa dove correvano per 5 chilometri vestiti da Babbi Natale. Ecco, se era una gara di 5 chilometri non poteva essere una maratona, porca miseria. Questa è una di quelle cose che mi fa diventare matto. Ma corri anche a Natale Santo Stefano? Dipende da cosa intabella, chiaramente. Se c'è un allenamento, sì, corro anche a Natale, Pasqua, Capodanno e tutte le feste comandate. C'è anche una versione 2, ma corri anche con la pioggia? Stessa risposta di prima, sì, se c'è da correre, corro. Versione 3, e se fa caldo, c'è la neve, il vento, la nebbia, eccetera eccetera, vedi sopra. Almeno che non venga veramente la tormenta, l'alluvione, sì, corro. Versione numero 4 di questa domanda. Ma perché corri anche durante le feste? Questo dovrebbe essere un periodo di svago. Beh, per me correre è uno svago, è un divertimento e quindi lo faccio anche nei periodi vacanzieri, anzi a maggior ragione lo faccio in questi momenti. Ultima versione, la quinta, ma corri anche quando sei in vacanza? Sì, ne è. Anche perché è una figata scoprire posti nuovi correndo. Se vado in giro, vuoi che non trovi un posto ganzo dove andare a correre? Porca miseria, eh, non vedo l'ora io di andare a correre in vacanza. Ma proseguiamo. Non ti stanchi a correre per così tanto tempo? Sì, mi stanco di queste domande. Oppure, ma non ti annoi? Io mi rompo anche solo a fare 5 minuti di corsa o di camminata. Beh, dipende, a volte sì, dai, mi annoio anche se vogliamo. Ma ci sono allenamenti e allenamenti, se sono onesto, ogni tanto sì, ci si annoia anche correndo, bisogna dirlo. Oh, questo è un classicone. Quando fai le gare, vinci? Sì, guarda, vinco il premio, simpatia. E c'è anche il classicone numero 2. Ma sei forte? Sei veloce? In assoluto no, non sono veloce, ma certamente lo sono più di te che mi stai facendo questa fantastica domanda. Quale maratona hai in programma per l'anno nuovo? Questa, se vogliamo, sarebbe anche una domanda sensata di per sé, ma ogni volta devo spiegare che non corro solo maratone, anzi, tendenzialmente non le faccio mai e invece corro sui sentieri. Ed infine, ultima domanda, chi te lo fa fare di alzarti presto ogni mattina con qualsiasi condizione meteorologica e correre? Questa forse sarebbe anche la domanda più sensata dell'otto. A volte effettivamente me lo chiedo anch'io chi me lo faccia fare, tant'è che in passato ci ho pure fatto su una puntata proprio sul perché corra. Sintetizzando, per me la corsa è una passione e come tutte le passioni non mi pesa farla, a parte in qualche situazione. In più, so che alla fine dell'allenamento, la soddisfazione e l'appagamento compenseranno le madonne tirate per alzarsi, uscire dal letto e correre quando si ha poca voglia. E via, abbiamo finito, oggi puntata veloce veloce, leggera leggera. Ma a voi cos'hanno chiesto? Di assurdo o di fastidioso? Mi immagino che le persone possano essersi inventati la qualunque. E allora fatemelo sapere scrivendomi o commentando. Tanto sapete dove trovare tutti i miei recapiti, stanno lì nelle note dell'episodio. Chissà che poi con il contributo di tutti non ci esca fuori una bella raccolta condivisa da mettere magari, che ne so, sul canale Telegram. A proposito, seguitemi lì, anche su Instagram, questi sono i posti migliori dove seguirmi. In generale, sulle note dell'episodio c'è tutto quanto. Cliccate e fate cose. Sempre lì dentro, per unirvi alla community dei pazzi che mi segue e mi sostiene, sempre in descrizione c'è il link per accedere al canale Patreon. Basta un eurino al mese per darmi una mano e già lui da solo può fare la differenza. Direi che per oggi è tutto, cari runners ancora altri 11 mesi circa e ci ritroveremo a rispondere nuovamente a queste ed altre fantasiosissime domande. Ci sentiamo alla prossima puntata.